Siamo con molto rispetto e molto umiltà in un ambiente che ha la nostra cultura e una delle ragioni per le quali abbiamo osato, come fanno gli imprenditori quando investono a rischio, abbiamo deciso di investire qui, è che eravamo consapevoli e convinti di trovare una cultura comune, non soltanto con i nostri fratelli imprenditori, perché questo è scontato, ma l'insieme della società lecchese è una società che anche per quello che ci ha detto il sindaco, poco anzi relativamente agli investimenti universitari, alla presenza del Politecnico, del CNR eccetera, è una cultura volta all'industria e all'innovazione, cioè alle cose che l'Italia deve fare se vuole mantenere uno spazio in questo mondo così difficile e così profondo ovviamente. Dicevo ai cittadini di questa mattina c'è un elemento di novità rispetto all'assetto precedente, l'assetto precedente era un assetto nel quale il cagliotto era dentro un gruppo ruchini che aveva un altro laminatorio che faceva le stesse cose per prima e naturalmente questo era un elemento, voglio dire, di complessità. Oggi non è più così, nel senso che in polpo position sta il cagliotto dentro il periodo di Ferragi e di Ferco, non è secondo a nessun altro laminatorio che fa questo prodotto, quindi ci sarà la concentrazione totale della proprietà su questo e questo è un elemento di grande forza e di grande significato. L'altra faccia della medaglia è naturalmente che la battaglia competitiva aumenta perché poi ci ritroveremo quell'aminatorio di Piombino che prima era un amminatorio, come dire, fratello che sarà un amminatorio concorrente, quindi dovremo essere bravi noi e far leva sugli elementi strategici che sono la localizzazione e la vicinanza al mercato dei clienti e la qualità dell'impianto e della forza lavoro, gli skills della forza lavoro che sanno fare questi prodotti per essere più competitivi di tutti.